Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno portato in Romagna lo stesso quantitativo d'acqua che cade di solito in un'intera primavera. Le perturbazioni hanno fatto esondare copiosamente i fiumi anche in Bosnia e Croazia. Ora ci si chiede se tutta quest'acqua offra un sospiro di sollievo per un'estate che si preannuncia particolarmente secca. La prima volta di un periodo di droughte è che il rinno o recharge, il rinno di recharge, non si non si deve andare dove dove, perché in un rinno di drought, non c'è no solle moisture in la superficie, quindi il rinno è molto difficile. Questo significa che quando il rinno è molto difficile, che invece di rinno soccendo in e rechargingi i luci e i riservi e i rischi, si rinno è straighte offi la superficie e lezze a queste catastrofici flotting eventi. Come avviene per altri fenomeni atmosferici, anche i ritmi dei periodi di siccità stanno cambiando. Tutti indizi, secondo alcuni esperti, che confermano come il clima nel continente europeo stia prendendo le sembianze di quello che si registra ai tropici. Grazie.